salve a tutti amici e bentornati sul mio canale la juventus non riesce ad approfittare diciamo di un turno dove poteva sopravvanzare l'inter come tutti sappiamo non riesce a battere il genova la partita termina 1 a 1 al marassi ci sono dei clamorosi errori arbitrali contro la juventus sono tutti concordi tutti i media ragazzi per essere tutti i media concordi che c'è qualcosa contro la juventus vuol dire che questa cosa è chiara palese e solare oltre a questo c'era una chiara espulsione da parte di marinoschi per un fallo un fallo criminale su kenan hildiz che poteva stroncare la carriera un ragazzo di 18 anni tutti sono concordi ragazzi ma c'è sempre sempre l'eccezione andiamo a vedere in questo video di cosa si tratta prima ragazzi vi chiedo like a questo contenuto iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto perché è gratuito non vi costa nulla e in più azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre su questo canale ragazzi io mi incazzo con i tifosi della juventus che arrivano qui e mi dicono non dobbiamo parlare degli episodi non dobbiamo usare gli episodi come alibi e anche con naturalmente con naturalmente gli anti juventini che vengono qui a dirmi ma l'arbitro non era l'alibi dei perdenti voglio dire queste persone che vengono qua a fare i furbi che queste parole dell'avvocato agnelli che sono parole molto datate naturalmente sul quale non si può che concordare sono parole che vanno ad inserirsi in un calcio un calcio ragazzi dove non c'era il bar quindi io se posso anche accettare un errore di massa ciò che non accetto di massa è che massa è sempre lui è sempre recidivo ecco perché mi incazzo con massa ma ciò che mi fa incazzare naturalmente di più è il bar ragazzi perché massa in campo può sbagliare ma se uno ha l'ausilio l'ausilio delle telecamere non deve non deve sbagliare ecco questa è la differenza per questo che parliamo di errori arbitrali perché è incredibile gli errori che stanno avvenendo nonostante l'ausilio tecnico della possibilità di andare a rivedere tramite l'uso del VAR che viene fatto invece al loro comodo ed uso ed usato come più gli piace stavamo dicendo tutti quanti sono concordi sul fatto che la juventus è stata diciamo defraudata da parte dell'arbitro massa e del VAR di un calcio di rigore netto di cui non stiamo neanche a parlare dato che abbiamo parlato abbondantemente sono lo dicono sia calvarese sia Marelli addirittura Marelli ragazzi che è uno che normalmente quando può parla contro la juventus ed anche in questa occasione questa volta invece dice che calcio di rigore netto lo dicono tutti praticamente gli esperti che di errori arbitrali che ci sono come Dennis di errori arbitrali che ci sono su internet lo dice addirittura la gazzetta dello sport ragazzi quindi voglio dire davvero siamo arrivati c'è il giornale di partito interista dice che è quello era calcio di rigore però ragazzi c'è ancora chi lotta sul fatto che questo non è calcio di rigore naturalmente parliamo di gente che appartiene al metaverso di cui il capitano ragazzi chi è il capitano del metaverso il capitano del dell'antijuventinità il più antijuventino di tutti esattamente ragazzi stiamo parlando stiamo parlando proprio di lui del caro Siliani che ancora si ostina a dire che quello non è calcio di rigore perché la palla tocca prima la gamba anzi si incazza con Marelli fa per l'appunto questo tweet dove dice che è giusto che si possa praticamente abbonarsi a canali a fare abbonamenti all'estero è stata come sapete da poco modificata la regola quindi ci si può abbonare ci si può abbonare anche a piattaforme estere per guardare il calcio perché da poco è stato tolto il blocco per nazioni e quindi ci si può abbonare lui dice vi volete anche lamentare di questo quando mandate questa propaganda perché praticamente Marelli per una volta ha detto che era calcio di rigore in favore della Juventus e che l'arbitraggio ha sfavorito la Juventus cioè lui questa cosa ragazzi proprio non va giù lui ci sta male ci sta male ma non è solo insieme a lui c'è anche il giornalista imparzialissimo ragazzi imparzialissimo come sempre Tancredi Palmieri lui è un giornalista sempre sempre moderato che guarda il calcio in modo distaccato e super partes al 100% peccato che è un tifoso di interista conclamato che vive vive di anti-juventinità e che non è mai 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 obiettivo quando si parla di Juventus tu siete anche lui con le stesse argomentazioni di Ziliani ma negare l'esistenza di un calcio di rigore che è solare ecco ragazzi purtroppo esiste anche questo ed è per questo che io mi incazzo anche con tanti juventini che mi vengono a dire non devi parlare sempre di complotto non devi parlare ragazzi io vedo delle cose vergognose ed in più c'è gente che nega la realtà allora se noi non ci difendiamo davanti a quello che è un complotto vero e proprio da quello che è una vergogna vera e propria e poi tra l'altro facciamo passare la propaganda che vogliono far passare questi qua sì però va bene però la Juve perché poi in fondo ragazzi i media che cosa fanno? dicono sì era calcio di rigore per la Juventus sì c'era l'espulsione di Marinoski che però viene al 93esimo quindi non va a influire sulla partita sì però la Juventus ha giocato male sì però ragazzi tutti quanti lo sappiamo che la Juventus ha giocato male e che la Juventus gioca male chi si aspetta di vedere un calcio iper propositivo da parte della Juventus secondo me vuol dire che o non guarda le partite da tanti anni o davvero ragazzi è utopistico perché uno nella vita poi si può aspettare di tutto però voglio dire che Allegri da una partita all'altra decida di proporre un calcio diverso che non ha mai proposto è quanto meno utopistico ecco questo è quello che dico io il discorso è ragazzi se anche uno come Enrico Variato, Lotto, Antioventino non riesce a trovare questa volta un'argomentazione per poter parlare contro la Juventus e anzi parla di errore di Massa naturalmente lui lo fa per difendere quello che è il suo club del cuore perché due settimane fa Massa sbagliò contro il Napoli e quindi vuol mettere in evidenza che non fu fermato allora e non viene fermato neanche adesso però se neanche lui lo nega questa volta bisogna porre l'accento su questa cosa perché sta succedendo qualcosa che in questo momento ragazzi in tanti vediamo alcuni continuano a negare ma che tra qualche anno ragazzi porterà alla luce delle cose e lo dico oggi lo dico oggi perché così porterà alla luce delle cose che poi non potranno avere diciamo degli effetti sul calcio per la ragione che saranno cadute in prescrizione perché io lo so come funziona quello che sta succedendo oggi non può essere un caso e quelli che vengono chiamati errori non sono errori arbitrali non sono errori involontari diciamo così sono errori programmati per portare all'Inter determinate cose ragazzi è tutto studiato purtroppo tutto sta avverando se noi riusciamo ad anticipare le mosse e succede esattamente quello che abbiamo previsto a inizio anno se in settimana io vi dico hanno mandato Massa perché Massa in questo momento dà delle garanzie al sistema di riportare diciamo la barca in porto vuol dire che è così ragazzi vuol dire che ne dobbiamo parlare ecco perché vi chiedo massima condivisione di questo video perché la verità che non diffondono i media che tendono sempre a minimizzare quando si parla di Juventus dobbiamo diffonderla noi fatemi sapere qual è la vostra nei commenti e fino alla fine ragazzi contro tutto e tutti sempre e comunque Forza Juventus